fermati per entrare pienamente nella presenza di dio è importante prendersi un momento di pausa proprio come suggerisce il salmo 46 10 fermatevi e gli dice e riconoscete che io sono dio io sarò esaltato fra le nazioni sarò glorificato sulla terra so che la tua vita è frenetica e che sembra quasi impossibile trovare del tempo per te stesso figuriamoci per il signore tuttavia questi momenti sono essenziali e possono dare un significato più profondo a tutta la tua vita concediti una pausa per rinnovare il tuo spirito le tue energie quando riprenderai le tue attività lo farai con una prospettiva diversa e il tempo trascorso in presenza di dio ti tornerà indietro moltiplicato rallenta concentrandoti sulla sua presenza prenditi il tempo di riposare riflettere ascoltare aspettare meditare lodare qual è il momento migliore per te al mattino presto forse ti basta mettere la sveglia un po prima o prima di addormentarti la sera durante la pausa pranzo oppure durante una tranquilla passeggiata decidi quale sia il momento più adatto a te e inizia a trascorrere con dio anche solo 5 minuti fallo oggi stesso sarai sorpreso di come crescerà in te il desiderio di stare nella sua presenza vedrai questi momenti diventeranno sempre più preziosi il tempo trascorso con dio ti sarà ridato moltiplicato grazie di esistere emmanuel go grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.